Buona giornata amici, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è Giavedì 9 maggio 2024, procediamo subito con l'almanacco del giorno, poi le previsioni del tempo e quindi sfoglieremo i giornali insieme, il resto del carlino e il Corriere Adriatico a partire dalle pagine locali. Dunque vediamo chi si festeggia oggi. Eccolo il santo, è un santo dell'Antico Testamento, un profeta, un grande profeta, Sant'Isaia. E' uno dei più importanti profeti della Bibbia, sacerdote della tribù di Levi, visse in un periodo, era nel 700, nel 700 a.C., un periodo di forti tensioni dal punto di vista sociale e politico, sotto la minaccia di un'invasione assira di Israele. Ebbene, Isaia denunciò il degrado morale del suo popolo, invitando soprattutto a ripristinare la fiducia in Dio. Insomma, non servivano tanto le alleanze, le strategie, eccetera, quanto la fiducia in Dio che avrebbe risolto tutti i problemi. Sant'Isaia è un profeta a cui si fa molto riferimento nei capitoli della Bibbia. Ed ora passiamo alle previsioni del tempo. Ecco la grafica e vediamo che sulle Marche il tempo nel complesso sarà variabile nella giornata di oggi, con nubi irregolari alternati a spazi soleggiati. Più nubi diurne, più nubi diurne sui Sibellini. Il clima emite, le temperature 15 gradi la minima si è alzata rispetto a ieri, venti la massima. I venti sulle coste espireranno con una tensione media da nord-ovest, nell'entroterra invece da nord-est. Il mare è leggermente mosso, il sole è sorto alle 5.49 e tramonterà alle 20.18. Queste sono le previsioni del tempo. È una giornata accettabile. Dovremmo dire che non farà freddo, sarà un clima emite e forse non ci sarà nemmeno la pioggia, almeno nella provincia di Pesaro e Urbino. E allora apriamo i giornali a partire dal Corriere Adriatico, sulla pagina di Fano, e vediamo come a Fano si lavori allacremente per preparare la tappa a Martensicuro-Fano che arriverà il 16 di maggio con grande aspettativa in tutta la città. Corsa contro il tempo per i lavori, tra una settimana arriva il giro, mancano ormai pochissimi giorni. Ebbene, i lavori consistono soprattutto nell'asfaltatura delle strade, in modo particolare quell'itinerario che percorreranno i corridori prima di arrivare all'arrivo di Viale Gramsci. Però si stanno facendo anche altri lavori, in modo particolare quelli programmati da tempo che stanno procedendo all'acremente. Ebbene, una doppia corsa contro il tempo, questa volta sul terreno delle asfaltature. Bisogna predisporre tutto perché non accadono incidenti e soprattutto perché il giro possa venire a Fano nelle migliori condizioni. Vediamo qualche intervento che viene enunciato dal Corriere Adriatico. Ebbene, l'inventario muove soprattutto da Viale Gramsci, il Viale Principale, anche il Viale 12 settembre. Quindi si continua ad operare qui sulla area dell'ex Agip, che ormai è quasi definita. Infatti chi butta un occhio dentro vede come quest'area, che sarà un parchetto, un parchetto alle porte della città è quasi ultimata. E poi vediamo la riasfaltatura di Viale Battisti, dove però è ancora da completare il controviale lato Ancona. Da domani a mercoledì della prossima settimana si farà la riasfaltatura di Viale Ruggeri, che però non c'entra niente con il giro. E poi invece si interviene su Via Nazario Sauro, in alcuni tratti in direzione mare, rimossi cordoli ed osso artificiale al curvone del porto. E poi risistemati da giorni, ormai tratti in Via della Liscia e in Via Campanella. E quindi si sta procedendo a tratti, anche Via Roma è stata riasfaltata, perché l'opportunità, perché la tappa del giro di Fano a Fano costituisce anche una opportunità per quanto riguarda i lavori pubblici e si interviene in quei tratti di strada che erano molto ammalorati, che poi rimarranno anche dopo il giro, ovviamente, quindi è un arricchimento per la città. Però, insomma, da parte del centrodestra non mancano le critiche. E le vediamo qui, in questo articolino di spalla. Ancora non si conoscono le vie interdette, tanta superficialità accusa il centrodestra, che fa riferimento al candidato sindaco Luca Serfilippi. Che cosa accade? Accade che il centrodestra accusa l'amministrazione comunale di non aver detto quali vie saranno chiuse nella giornata del giro. Ma ci sono delle aziende che lo vogliono sapere, perché devono predisporre anche le consegne, devono predisporre anche l'apparato delle vendite. Se lo sanno in anticipo bene, se lo sanno all'improvviso, insomma, le cose non vanno affatto bene. Ed è una denuncia che appare anche dal punto di vista politico, ovviamente. E dal punto di vista politico appare importante anche questa dichiarazione a fondo pagina fatta dalla Presidente della Confcommercio di Fano, Barbara Marcolini, la quale, intervenendo nel tema del dibattito che ha caratterizzato la funzione della Corte Ammanatestiana, abbiamo visto nella giornata di ieri come Luca Serfilippi predispone il ritorno della funzione teatrale alla Corte Ammanatestiana, mentre il candidato sindaco Cristian Fanesi, del centro-sinistra, prosegue il progetto già impostato dall'attuale giunta, mentre Stefano Marchigiani, candidato sindaco dei progressisti, ha un aspetto un po' così altalenante, tra una funzione che riguarda in modo particolare la valorizzazione del museo civico, del palazzo malatestiano, e invece un assetto rinascimentale di per sé stesso, diciamo meglio, medievale di per sé stesso della Corte, quindi un aspetto che non rifà la struttura pesante teatrale che era una volta, ed ha un aspetto ancora più suggestivo della Corte in termini storici, in termini medievali. Ed ora passiamo alle altre notizie. Eccola qua e vediamo come ieri si è verificato un fenomeno che ha destato la curiosità di coloro che hanno fatto una passeggiata lungo il litorale di Sassonia. Sulla sabbia hanno, sulla sabbia, ci sono i sassi, sui sassi hanno trovato tanti tanti pesci morti. Erano delle sardine, si pensava ad un inquinamento del mare, invece il biologo, il ex direttore dell'Istituto del Laboratorio di Biologia Marina di Fano, Corrado Piccinetti, ha chiarito innanzitutto che si tratta di sardine, ce ne sono veramente tante spiaggiate sul litorale, che non si tratta di inquinamento, ma si tratta di un fatto naturale. Un branco di sardine inseguito dai predatori, da pesci più grossi, famelici, tipo aguselli, tipo sgombri, per salvarsi si sono diretti verso riva. E arrivati nella Battigia si sono riversati sulla spiaggia, non sapendo che ovviamente lì li aspettava ugualmente la morte. E purtroppo ce ne sono molti di questi pesciolini, sono pesciolini dei un mese e mezzo, due mesi di vita, quindi sono molto piccoli, che purtroppo sono morti, spiaggiati, ma è un fatto naturale. È l'evoluzione così della catena alimentare, il pesce più grosso mangia il pesce più piccolo. Moria di Sardini a Sassonia, ma non c'è inquinamento. Le rassicurazioni del biologo Piccinetti, pesci spiaggiati per sfuggire ai predatori. La crisi della sanità ne discute marchigiani. Alle 17 con Zuccatelli, Rungeri e Sciumbata. È un convegno che si tiene oggi, alle ore 17, a Palazzo Martinozzi, con Giuseppe Zuccatelli, già direttore del Servizio Salute della Regione Marghe. Ci sarà anche la consigliera regionale, Marta Ruggeri, del Movimento 5 Stelle, e Vania Sciumbata, che è la segretaria della CGL. Ci sarà anche Marchigiani, candidato sindaco dei progressisti. Vi ripeto, il luogo e l'orario, ore 17, a Palazzo Martinozzi. Passiamo a Cartoceto. A Cartoceto si sollevano dubbi sull'insediamento di una azienda. Lucrezia, dubbi sulla variante. Verniciatura vicino alle case. La minoranza con Gianluca Longhi, Andrea Letizzi ed Eliana Lommano, con Giulio Roberti, esprimono dubbi sul reparto di verniciatura per interni delle barche, siamo nel tema della cantieristica, che dovrebbe esorgere nelle vicinanze della zona residenziale. Ebbene, si prende il posto dell'azienda SICAP. Si tratta dell'insediamento della ditta Il Massello, SRL, recentemente acquisita dalla Ferretti Group, una multinazionale italiana operante, come tutti sanno, nel settore della cantieristica navale. Insomma, questo insediamento di questa nuova azienda vicino alle case crea problemi. Un po' quello che accade a Fano, in prospettiva, nelle aree dell'ex zuccherificio, dove i residenti si sono ribellati ad una connotazione di quest'area di carattere marcatamente industriale che ormai mal si concilia con la funzione abitativa. Insomma, vicino alle case le aziende che poi operano, che fanno rumore, che emettono fumi, insomma, non vengono affatto gradite dai residenti. Luca Battistoni è un pilota che ha ottenuto un traguardo veramente prestigioso. Pilota fanese entra nelle frecce tricolori. Luca Battistoni 31 anni inizierà l'addestramento per la pattuglia acrobatica. Un pilota fanese dunque conquista questo grande sogno di far parte della pattuglia delle frecce tricolori che è veramente un traguardo a cui tutti i piloti aspirano perché è un grande un grande traguardo un grande sogno che viene realizzato. Passiamo a Monteporzio passiamo a Monteporzio parliamo di campagna elettorale abbiamo una candidatura pioniere della biodinamica adesso è candidato sindaco chi è? È Michele Sebastianelli che sfiderà Marco Moscatelli Michele Sebastianelli ha già un passato di consigliere comunale e sarà la sfida a due a Monteporzio alle elezioni dell'8 e 9 giugno prossimo per dare continuità all'attuale amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Breccia che dopo due mandati ha deciso di non di non ripresentarsi correrà invece il consigliere comunale di maggioranza uscente Bruno Sebastianelli e qui è una nuova candidatura vediamo la pagina di Senigallia dove si parla di scarsità di manodopere in modo particolare in un settore particolarmente importante nella stagione estiva lo è in tutti i mesi dell'anno dobbiamo dire ma è anche un attrattore di turismo durante le vacanze quello della ristorazione Cedroni e la mancanza dei camerieri gli stipendi non sono un problema dice ci sono altre cause che fanno fatica a motivare i giovani ad abbracciare questa occupazione questo settore i ristoranti sono in perenne affanno alla ricerca di personale soprattutto camerieri i giovani che si presentavano in massa per un lavoro stagionale dopo il covid sono letteralmente spariti e non è una questione di stipendi perché poi gli stipendi voglio dire sono abbastanza congrui il problema è un po' connesso a dei disagi alla fatica del lavoro all'impegno che richiede questo lavoro che poi viene anche un po' sottostimato fare il cameriere sembra come fare non so un operatore ecologico qualcosa così sono invece mestieri rispettabilissimi che hanno poi bisogno anche di una buona preparazione perché il contatto col pubblico non si limita soltanto a mettere il piatto davanti alla persona che è seduta a tavola ma spesso c'è un colloquio c'è anche un'informazione sugli ingredienti di quello che si mangia di come si mangia di quello che si fa in cucina insomma occorre anche un certo savoir faire come si dice per completare questo mestiere che ha i suoi pregi anche se insomma i giovani non ne vogliono sapere vediamo anche la pagina di Pesaro sul Corriere Adriatico dove si parla di area pedonale il comune allarga l'isola pedonale si parte il prossimo 2 giugno nella zona mare di Ponente si avvierà la sperimentazione estiva e l'ampliamento arriverà fino al tratto dove si sta costruendo l'ex garden intanto il Luna Park resterà nell'area di Villa Marina niente spostamenti come magari qualcuno aveva ipotizzato parco acquatico affondato e Sunset Island paga il flop il tribunale dà ragione al comune la società deve saldare i canoni in evasi ebbene la questione del parco acquatico era in ballo da diverso tempo ora c'è stata questa sentenza del tribunale che soddisfa il comune di Fano torna in città con un mix di droga scoperto e bloccato dopo la fuga un episodio di cronaca a cui il Corriere dà ampio risalto si tratta di un diciannovenne che sembra che volesse gestire il mercato di droga in piazza del popolo doveva stare lontano da Pesola aveva già un divieto di allontanamento ma non lo ha rispettato è tornato ed ha portato con sé un mix di sostanze stupefacenti tipo marijuana ashis meta anfetamine cocaina piccole quantità ma quanto basta per fare scattare l'arresto è stato individuato ed intercettato nel parcheggio di San Decenzio lui è scappato a piedi gettando via pacchetti e sospetti ma è stato poi catturato appunto dagli agenti è stato preso con addosso modiche quantità di varie sostanze tra cui anche metanfetamina rosa mista a blu sei involucri totale delle varie droghe tutti termosaldati per un peso di circa 5 grammi ebbene prima di essere bloccato ha anche spintonato i carabinieri per cui è scattata anche l'accusa di resistenza pubblico ufficiale il liceo Marconi ha dato un premio ha ricevuto ad uno dei suoi allievi più illustri si tratta del generale dell'arma Luzzi oltre 2.000 persone al liceo per festeggiare il comandante che ha ritrovato anche i vecchi compagni eccolo qua il generale Luzzi in mezzo agli allievi di oggi lui è stato avuto la maturità negli anni 70 cantieri aperti a San Salvatore 5 milioni tra lavori e macchinari ebbene i cantieri sono stati oggetto di visita dal nuovo direttore generale dell'Aste Alberto Carelli che si è insediato dall'inizio del mese la guida dell'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino il DG ha ispezionato i cantieri in corso all'ospedale San Salvatore di Pesaro un investimento complessivo di oltre 5 milioni e 800 mila euro per lavori di adeguamento e per l'installazione di nuovi macchinari insomma sta presendo un po' conoscenza di quella che è la situazione l'evoluzione anche dei reparti che è in atto vediamo ancora le notizie di Urbino ebbene ad Urbino c'è un problema un problema di carattere elettorale come noto il sindaco Gambini tenta il terzo mandato quindi si presenta di nuovo alle elezioni ma una zeppa gli viene posta da un ricorso da un ricorso presentato al presidente Mattarella questo ricorso chiede l'annullamento degli atti del segretario del comune e del ministero inammissibile privilegio qual è il succo di questo ricorso ebbene il comune di Urbino 15 mila abitanti ha avuto la conferma di essere provincia di Pesaro Urbino ma però il problema dei comuni con un abitante con un caso superiore di 15 mila abitanti non non ammette il terzo mandato e allora da una parte il comune di Urbino è provincia dall'altra invece segue la metodologia dei comuni con il numero di abitanti più basso e questo non combina e quindi sarà il presidente Mattarella a dover dirimere questa questione chiesto l'annullamento degli atti del segretario del comune e del ministero ebbene questo per quanto riguarda il Corriere Adriatico ora diamo subito un'occhiata al resto del Carlino dove vediamo che l'apertura è dedicata ad una evoluzione del pensiero della chiesa in sintonia a quanto ha detto e proclamato il Papa Francesco Don Giuseppe Don Giuseppe Cavoli è stato parroco di Bellocchi fino a poco tempo fa ebbene è un prete arcobaleno così viene definito perché si occupa in modo particolare da chi ha una situazione sessuale diversa da quella che hanno praticamente da quella non dico normale perché sono normali tutti però quella generale l'ex parroco di Bellocchi incontra le comunità LGBT ed anche le famiglie il Vescovo dice l'ho delegato io quindi l'imprimatur del presore può sembrare non del tutto ortodosso che un prete fuori dell'ambito della curia partecipe ad un convegno organizzato da un'associazione in questo caso sono i Verdi dove si parla di Homo Lesbo Bitransfobia una riunione programmata per il 17 maggio alle ore 21 nella nuova sala della cultura in via Arco d'Augusto a Fano a parlare del nuovo sguardo della chiesa verso le comunità LGBT Chia e Don Giuseppe Cavoli 67 anni fino a poco tempo fa parroco appunto di Bellocchi la sua è una missione che va oltre la partecipazione ad un convegno Don Giuseppe infatti opera da qualche tempo all'interno della curia incontrando i genitori che hanno figli con una sessualità diversa e quindi tutti hanno diritto di partecipare di essere annoverati di far parte della chiesa di Gesù vediamo le altre notizie e beh questa è una notizia vera e propria il primario Magalotti mi candido con il partito democratico la discesa in campo è stata ufficializzata ieri sera a Gimarra voglio dare una mano a migliorare questa sanità ma però resto fondamentalmente un chirurgo ha detto il primario che è il primario della Breast Unit questo reparto questo macchinaio che salva molte molte persone che hanno problemi veramente veramente molto gravi ma chi vuole un po' avere una panoramica di tutti i nuovi e vecchi candidati alle prossime elezioni amministrative può dare un'occhiata a questo articolo ebbene diamo subito il titolo voto in 300 per 24 posti e riecco Tonelli Fabiola Tonelli che è stata assessore tanti a D a sinistra molte persone non si ripresentano altri invece si ripresentano io non ho il tempo ora di leggervi chi si ripresenta e chi non si ripresenta ma ci sono veramente nomi particolarmente noti i quali hanno dato forfè altri invece ritentano la scalata al prossimo consiglio comunale a fondo pagina invece abbiamo l'addio all'edicola del ponte storto chiusa l'edicola del ponte storto eccolo qua ci veniva pure sgarbi e ci veniva anche il vescovo tutte le mattine il vescovo Andrea Andreozzi a comprare il giornale peccato che questo punto vendita abbia chiuso e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle ore 7 puntuali intanto vi auguro buona giornata e a risentirci grazie a tutti